Musica Mi pare che il lavoro che sta facendo il distretto della pesca è anche un lavoro che in qualche modo individua in alcune partner internazionali, in alcune aree, soprattutto dell'Africa e del Mediterraneo, la possibilità di costruire quello scambio di pratiche, di innovazioni, di sistemi di qualità, di modalità anche di esercitare l'attività della pesca, provando in qualche modo a creare la possibilità di dare una mano a questi paesi, a sviluppare il settore della pesca e anche della trasformazione e nello stesso tempo consentire ai nostri armatori, alle nostre imbarcazioni di poter sviluppare aree nuove dove poter esercitare la propria attività, il proprio interesse economico. Quindi mi pare che sia un'iniziativa da sostenere, la Sicilia è al fianco, la regione è al fianco del distretto, per promuovere tutto ciò che possa migliorare la qualità delle relazioni internazionali. Si tratta di fare ciò che noi facciamo già a casa nostra. Le nostre aziende hanno già mentalizzato negli anni un concetto di responsabilità e di sostenibilità, ma soprattutto di rigenerazione e restauro delle risorse. Quindi tutto ciò che si produce bisogna che sia lasciato integro per le generazioni future. Ed è con questo approccio assai positivo che noi andiamo in questi paesi, non solo con le esperienze, il grande bagaglio culturale delle nostre imprese, ma soprattutto con la capacità di sperimentare attraverso la collaborazione di molte istituzioni scientifiche, CNR, Università, Parco Scientifico e Tecnologico, Istituto Zoprofilattico, ISPRA, cioè tante istituzioni italiane che sono in condizione, se messe in rete, di promuovere produzioni efficaci, efficienti, ma soprattutto rispettose della natura. In questo momento molti di questi paesi hanno un problema serio, che è quello della pesca illegale, illegale, della pesca irresponsabile, e soprattutto non compatibile con le esigenze della rigenerazione naturale delle risorse. Affrontare con loro già all'origine un processo, un percorso industriale che prevede soprattutto l'utilizzo costante delle risorse, mi pare un approccio assai positivo, credo che sia l'unico approccio possibile. Il fatto interessante è che molte aziende siciliane hanno già mentalizzato, hanno già metabolizzato questa idea, questo processo, che si chiama sostanzialmente applicazione dei principi della filosofia della blue economy. La prima fase di questo nostro protocollo, firmato già un anno e mezzo fa con il precedente ministro della pesca, riguarda appunto un'attività di esplorazione, proprio perché non ci sono dati, non ci sono dati certi, non ci sono conoscenze nel merito, e quindi necessariamente il primo approccio è quello di andare a verificare quali e quante risorse sono disponibili e quante sono destinabili a processi industriali. Sicuramente è un paese molto interessante, soprattutto in virtù del fatto che oggi le risorse ittiche stanno cominciando a mancare nel mondo. ho appreso in maniera abbastanza positiva che il paese è inesplorato, per cui ritengo che ci siano tantissime risorse che possono essere sfruttate, però il problema principale della Guinea Equatoriale è che non esistono infrastrutture, mi riferisco a impianti a terra di trasformazione e soprattutto non esistono battelli del paese pronti a pescare, ma esistono licenze che loro stanno concedendo a barche straniere, per cui tutto il pescato che in questo momento viene catturato nelle acque del paese viene portato tutto via. Il distretto della pesca ha un ruolo fondamentale, perché grazie, devo dire, al Presidente Tombioli, e un po' a tutti, ma comunque in particolare al Presidente, riesce, non lesinando sforzi, a lasciare rapporti un po' con tutti questi paesi che saranno ancora di più fondamentali in futuro, proprio nell'ottica appunto di questo sviluppo che ci deve essere necessariamente, se vogliamo noi occidentali, continueremo a mangiare del pesce in futuro. Grazie a tutti.